Cosa significa velocità cucchiaio? Cosa significa spatolare? E cosa significa anti-orario? Oggi scopriremo insieme quando Bimbi ci dà queste indicazioni che cosa ci sta chiedendo. In tante ricette scopriamo sia in modalità guidata ma anche nei libri, sia con Bimbi TM6 sia con gli altri modelli Bimbi, spesso e volentieri nel Bimbi troviamo la scritta spatolare. Sappiamo benissimo che questa è la spatola data in dotazione con il Bimbi. In una delle ricette più frequenti, ad esempio il purè o il risotto, ci viene chiesto di mettere la spatola all'interno del foro del coperchio togliendo il misurino. Quindi nel foro del coperto, quando il Bimbi in azione, sia perché lo troviamo scritto sul libro oppure perché lo troviamo indicato direttamente dalla ricetta in modalità guidata che troviamo su Cukidoo. Inseriamo, così come ci viene indicato, la spatola all'interno del foro del coperchio, come detto poco fa, e da qui spunterà la scritta, ci verrà indicato di spatolare. Spatolare significa aiutare e assecondare il movimento della spatola manualmente, quindi è una cosa che si fa in pochissimi secondi e quindi viene fatto questo movimento. In questo caso spatolare si intende esattamente questo. Dura pochissimo tempo, serve più che altro, ad esempio per mantecare, per dare una girata finale, aiutando la spatola a rimescolare il tutto. I segreti del Bimbi vi offre tutte queste notizie, sia per chi è già il nostro cliente, forward con un Bimbi TM6, ma anche con i Bimbi precedenti di altri modelli, e chi ancora invece non lo è, vi ricordo che potete scrivermi privatamente per mail, per avere delle lucide azioni, se vi interessa acquistare un Bimbi, regalare un Bimbi, e farò il possibile per offrirvi la migliore proposta commerciale. Che cos'è la velocità cucchiaio? Come vi avevo anticipato all'inizio in questo video, andiamo a scoprire anche che cosa ci vuole dire Bimbi quando troviamo scritti nei ricettari, ma anche in modalità guidata all'interno della Cookey Do o nel monitor del Bimbi, velocità cucchiaio. Dopo aver impostato il tempo desiderato, la temperatura che vogliamo, mettendoci su quest'altra parte del monitor, possiamo, come sappiamo, ruotare la manopola e segnare la velocità che ci viene indicata della ricetta o che vogliamo. In questo momento, vediamo che nel momento in cui vado alla prima tacca, non spunta nessun numero, bensì spunta un cucchiaio. Questa è la famosa velocità cucchiaio. È la velocità più blanda in assoluto che mi serve semplicemente per far partire, azionare il Bimbi. Si chiudono i braccetti e lui comincia a ruotare. Come sappiamo, aumentando la velocità, la velocità successiva alla velocità cucchiaio è quella 0,5. Poi ci sarà 1, 2, così come normalmente siamo abituati, vediamo nelle varie ricette. Spesso e volentieri ci si confonde quando si legge velocità cucchiaio. Ecco, si chiama così proprio perché hai disegnato il cucchiaio. Ed è la velocità più lenta in assoluto e serve solo per far partire il Bimbi. Oppure per rimescolare molto lentamente e far girare le lame nel modo più lento possibile. Infine, scopriamo insieme che cos'è l'antiorario e da dove si aziona nel Bimbi TM6. Nel monitor del Bimbi troviamo sempre disegnata questa lama, simbolo anche della Forwerk e del Bimbi. Questa lama indica che il gruppo lame è posizionato in modo da girare nel senso tagliente. Sappiamo che le lame in acciaio soli in genere hanno un senso molto tagliente e uno invece non tagliente. Quando io voglio azionare l'antiorario, clicco qui e mi cambia il simbolo indicato, mi spunterà questa freccetta verde che ruota al contrario. Significa che l'antiorario è abilitato, per cui le lame gireranno nel senso non tagliente. Ovvero quando devo semplicemente mescolare o sto facendo un risotto, quindi le lame è importante che girano nel senso anti-orario. Se clicco nuovamente, l'anti-orario si disabilita e ritorna nuovamente il simboletto delle lame che girano nel senso invece tagliente. Questo, se utilizziamo la modalità manuale, è importante ricordare di azionarlo in questo modo quando cuciniamo qualcosa che non deve essere tritato. Se invece non è necessario o di default, noi troveremo sempre questo simbolo. Nella modalità guidata, l'anti-orario o la disabilitazione o l'abilitazione dell'anti-orario verrà in automatico a seconda della ricetta. Le tre indicazioni che ho dato oggi vi sono stati utili? Le conoscevate? L'anti-orario, lo spatolare, la velocità cucchiaio? Scrivetemelo nei commenti e vi aspetto al prossimo video.